Ecco, diciamo che sono pronta di fare... Oh, ma sei malata delle risate! Però malata delle risate, perché la verità è che noi a casa non facciamo altro che ridere, ridere! E poi, e poi, va bene? Il premiale chiama e guardisci questa matta. Questa matta? No, scherzo! Diversità in tutti i suoi aspetti, non solo quella legata all'handicap, ma anche quella della diversità di religione, ceti sociali, orientamenti sessuali e stili di vita. Il tema del film Be Kind, sì gentile, che sarà proiettato in anteprima regionale a Pescara dall'Aduitorium Petruzzi, con il patrocinio del Comune di Pescara, è un viaggio a tutto tondo sul tema dell'altro da noi, che, secondo la regista Sabrina Paravicini, era, è e resterà un valore aggiunto della società. Il tutto visto dalla prospettiva di un bambino, quella di Nino, 13 anni, figlio di Sabrina Paravicini, affetto dalla sindrome di Asperger. Le sue domande sulla diversità che puntano al senso della vita guidano tutto il docufilm e lo rendono il più giovane regista italiano. La mission di questo film è quella di sensibilizzare sul tema della diversità e della disabilità, inserendosi nell'ambito delle tante manifestazioni per la giornata mondiale dell'autismo, portando la pellicola nelle scuole, nelle università e nei cinema. Be Kind, da poco uscito nelle sale, ha ricevuto tanti riconoscimenti da parte della critica e vede la partecipazione dello scrittore Roberto Saviano, dell'astronauta Samantha Cristoforetti e dell'attore fortunato Cerlino. Grazie. Grazie. Grazie.